Ciao a tutti, sono Rachele Barbieri e sono da poco rientrata dalle Olimpiadi di Tokyo. Ci tenevo a ricordarvi che il 16 settembre alle ore 20.30 ci sarà una serata dedicata alla presentazione del corso di volontari EMA e Emilia Ambulanze di Casal Grande. Mi raccomando partecipate, è un'esperienza che posso portarvi da vicino facendo parte dell'Avac di Serra Mazzoni. Mi raccomando, fallo per te, fallo per gli altri. Un abbraccio! Grazie a tutti!